Uè, non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, oramai manca veramente una manciata di ore all'arrivo ufficiale in-game della nuova collaborazione di Fortnite con Batman. Non si parla di altro in questi giorni, completamente impossibile decriptare i pack rimanenti di quelli che sono riusciti in realtà a scoprire dei 12 all'uscita della patch 10.31 e arrivano delle novità veramente incredibili che posterebbero far gola ai collezionisti e anche a chi per caso non può permettersi di prendere skin o cose varie in-game. Nel video di oggi parleremo, porca miseria la domanda, ma che diaminazzo ci fa nel video di oggi ragazzi! Parleremo delle ricompense di YouTube in collaborazione con Fortnite Batman. Sì ragazzi, perché ci saranno dei premi veramente super per tutti che potrete ottenere in una maniera veramente facilissima. Ma parleremo anche dell'arrivo di Joker. È stato scoperto un elemento incredibile nei file di gioco che lascerebbe intendere l'arrivo e la skin maschile delle due ancora criptate relative a Batman. Potrebbe veramente essere Joker e anche i leaks relativi alla città di Gotham City. Sì perché oggi pomeriggio alle 14 non vedremo per un bel po' di tempo Pinnacoli Tilted Town che verrà sostituita da Gotham City ma io voglio farvela vedere in 3D e in anteprima. Prima volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Grazie di qua ragazzi per supportarmi nello shop. Mi raccomando iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Prima però l'avete già vista ragazzi e dai la domandina ma magari ve l'avete già data un'occhiata domandina di oggi semplicissima oramai il tempo scorre ragazzi non manca molto al termine della season 10 e quindi a che livello stagionale e del pass battaglia sei? Dai lo voglio sapere forza come on come on quanto vi manca per completare il pass battaglia quanto vi manca per arrivare a livello 100 stagionale sapete che quando arrivate alla fine vi verranno date le tre ricompense lo standardo lo spray e le motte del livello 100 ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito a vedere il primo argomento di oggi che non è altro che il post ufficiale pubblico di tweet che fortnite pubblica dove dice fortnite x batman reveal rivelato september 21 quindi oggi alle 8 am eastern time che per noi sono le 14 quindi questo pomeriggio alle 2 all'incirca fra 7 ore se non sbaglio arriverà tutto quello che vi ho mostrato nei video precedenti ma non è finita qua ragazzi perché questo tweet è invece importantissimo e ci dicono turn in tomorrow lo scrivono ieri quindi preparati oggi september 21 alle 8 am quindi sempre alle 14 per ottenere ricompense gratuite in game semplicemente guardando la premiere nel canale ufficiale di youtube di fortnite si ragazzi perché metteranno probabilmente il trailer o comunque una premiere dedicata all'ingresso di batman con epic games ovviamente per loro è una collaborazione a livelli stratosferici ben più alta di quella degli avengers e tutti noi guardandola la premiere ovviamente ricordatevi di loggare su youtube e di collegare il vostro account come si fa quando aprite il video in questione dovrebbe esserci un diamante sotto al video e lì se non è collegato ci cliccate sopra in modo che collegherete l'account di youtube che è anche il vostro di ep games direttamente al ep games al canale di fortnite per ottenere le ricompense quindi tanta tanta roba per questi nuovi premi gratuiti e andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi ci saranno ovviamente anche delle sfide dedicate sfide veramente interessanti tanto quanto le ricompense che verranno date a chi le porta al termine ragazzi c'è il logo di batman nello standardo incredibile tanta tanta roba ma c'è anche come vedete il deltaplano un po più tecnologico di quello che in realtà verrà anche dato con il pack sì perché uscirà anche il bundle di batman vi ricordo che potrete supportarmi anche scioppazzando il bundle che però sarà in euro quindi non in v bucks dovrebbe stare sui 19 e 90 e dovrebbe comprendere la skin è la music pack se mi ricordo il piccone il mantello e anche il l'altro deltaplano se non ricordo male che è quello a forma di pipistrello abbiamo visto stiamo vedendo un po di speed fare danni con il batarang accendere diversi bat segnali fuori da gotham city utilizzare il grappler gun di batman che è una delle nuove armi che verranno introdotte per questa modalità quindi proprio il rampino e il batarang e insomma ragazzi sfide tanto tanto interessanti per portarvi a casa tutti i premi relativi al batmanone e andiamo avanti con l'argomento anche più interessante di oggi è stato scoperto questo oggetto nei file di gioco nelle cartelle del batman stato inserito da pochissime ore e sembra proprio una maschera che ha delle particolarità non indifferenti come notate nella parte alta c'è una carta proprio con il simbolo del joker e quello che sembrerebbe un interruttore per un esplosivo con tanto di ha il la risata malefica del giocherone come vedete tutto il casco è stato pitturato con la risata i colori non dovrebbero essere questi ma veramente qualcosa che ci lascia supporre che il joker stia per arrivare e che abbia già fatto qualche cosa vi dico così ragazzi perché intanto voglio farvi vedere tutto quello che arriverà in gotham city queste sono le parti che vanno a formare proprio la nuova città che come avevo anticipato prenderà il posto di tilted town quindi sarà una city veramente molto molto grande ragazzi con un sacco di edifici con il teatro ci sarà anche la banca la stazione di polizia con tutti i loghi di gotham city e un'altra cosa incredibile è che ci sarà appunto questo mega faro che proietterà nel cielo il logo di batman non si sa se lo farà sia di giorno che di notte ma molto probabilmente lo si vedrà tranquillamente da tutta la mappa non guardate ovviamente la location che vedete intorno perché voglio che vi concentriate esclusivamente su queste nuove cose questa è una specie di piazza se non ricordo male questo è l'ospedale emergency viene chiamato e sono tutte le nuove tutti nuovi edifici di gotham city che veramente ragazzi ci lascia a bocca aperta ce ne sono tanti tanti altri il video è veramente lunghissimo quindi voglio anche andare un pochettino avanti per farvi vedere l'hotel tanta tanta roba anche per l'hotel ma c'è anche con tutte le stanze con dentro i chest c'è anche il cimitero di gotham city nuovo cimitero quindi ne avremo due in game come vedete con tanto di chiesa annessa e forzieri ma un'altra che mi interessava era proprio questa che non è altro che una parte della ferrovia dove al basso c'è proprio un cartello che dice welcome to gotham city con il logo di batman insomma ragazzi tanta tanta roba oramai l'attesa è finita eccolo qua il cartello ci soffermiamo su qua perché è veramente meraviglioso io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao non mi parte l'altro non va